E' l'ultima giornata di campionato anche per la Flora e parliamo con Feltrin Aigli che è il portiere, oggi è la giornata delle interviste ai portieri che padrone di una netta vittoria 3 a 11 contro la pizzeria La Rondine può attualmente dirci che la Flora è la prima squadra che automaticamente si candida ad andare in Superliga nel prossimo campionato qui al Derby Sports Come è stata la partita? Netta vittoria e promozione? Ce la racconta? La partita è già subito messa sulla strada giusta perché abbiamo segnato subito 3-4 oretti a loro quindi non ci sono stati problemi, non c'è stata partita, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano hanno spingato tranquillamente il loro compito senza grossi problemi niente da dire, siamo riusciti a ottenere quello che volevamo, la vittoria, quindi passaggio alla Superliga adesso ci attende solo la sfida finale per riuscire a prendere anche il primo posto, cosa che vorremmo fare Quindi nell'attesa di vedere chi passerà da prima in Superliga tra la Flora, la Tecnocar e il Daytime noi auguriamo un'altra vittoria alla Flora e speriamo di avervi di nuovo davanti ai microfoni del Derby Sports settimana prossima Grazie mille!